Prospettive per i cittadini è di avere un servizio erogato che non è all'altezza e non dà la qualità e crea disagio nel recarsi agli uffici postali per il taglio sul territorio che è un taglio molto importante ed è un taglio solo per il 2013 e il 2014, quindi ci aspettiamo ulteriori tagli per il 2015. Succederà che i lavoratori si dovranno spostare di decine di chilometri e non avranno più la sede di lavoro magari dove lavoravano ma anche da decenni rispetto a questo. Uffici postali con finanziamento importante di denaro pubblico costruiti ex novo che vengono chiusi. Cosa c'è di strategico e di manageriale in questo? Lascio capire agli spettatori, ai lavoratori, ai cittadini e agli elementi delle persone che guardano poste italiane come un'azienda di servizi che se si cammina su questa strada non ha il declino di fronte a breve. Grazie